Tommy Smith, benvenuto a Rieti, Tommy Smith, campione del mondo, uno tra gli uomini più importanti della storia dell'atletica mondiale, recordman, il primo uomo a scendere sotto i 20 secondi nei 200 piani e soprattutto l'uomo che ha segnato con un suo gesto la storia dell'atletica, la storia della politica e soprattutto la storia dei diritti umani, delle lotte per i diritti umani. I'm just saying about your history, the first man to run 200 meters below 20 seconds, one of the most important men for atletica and especially one of the most important men for promoting the activities and the protest for the human rights in the US. It was 45 years ago, something like this, and absolutely that action, that day was for sure one of the most important day of your life. What's your feeling today after so many years? We are here, we are here to celebrate, we are here to remember, we are here to talk about that day. Dopo 45 anni siamo qui a ricordare il suo gesto, la sua medaglia d'oro, il suo record, ma soprattutto la sua protesta. I'm very grateful to be here, to be invited by such a great man. This day, and Sandro Giovinelli and I have talked about already how magnificent this day would be because it represents a man that is great within his own rights, that's Pietro Mineo. The human rights issue of Tommy Smith has not changed since 1968, has not changed even before then. I always love life, I love people who live life and not live to despise anyone else's life, but continue the continuum of love and respect. Globally, I'm not just talking about America. Globally. And I will continue to cherish this moment because of the dedication of this country to a man that deserves honor and respect. I'm speaking of Pietro Mineo, the person I wanted to strangle because he broke my world records. But I know how fast he ran because I ran that race and I did my best and he broke it by a margin that I was surprised, from 19.83, 1968 to his 19.72. When I first heard it, I was surprised. Then I realized that records are made to be broken. And because it was an Italian that did it, I was even happier because there was someone who I respected. Allora, logicamente Tommy dice che il feeling non è cambiato. Da quel giorno del 1968 la sua lotta per i diritti umani, i suoi sentimenti sono rimasti assolutamente immutati. Lui è estremamente onorato di essere qui a Rieti perché grazie a Sandro Giovannelli, l'organizzatore del meeting, avremo la possibilità di ricordare un grande uomo come Pietro Mennea che è colui, ricordiamo, che ha battuto il suo record del mondo dei 200 metri, sempre a Città del Messico. La lotta per i diritti umani in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, è una cosa che continua, che deve continuare perché il rispetto delle persone deve essere assolutamente un valore fondamentale. Ci ha poi ricordato di quando Pietro Mennea ha battuto il suo record e nel momento in cui lui ha avuto la notizia che un italiano aveva battuto il suo record dei 200 metri è stato anche contento per questo perché poi si è reso conto che i record sono fatti per essere battuti e lo sport deve sempre continuare nella ricerca del successo. Chiediamo a Tommy Smith, logicamente, cosa ne pensa della nostra città visto che è arrivato da pochissimo e ha avuto un impatto passando dal mondo degli Stati Uniti, delle città statunitensi, da San Diego, dalla California, ha avuto la possibilità di visitare la nostra città. che è arrivato in una città che è completamente differente da California e da tutti gli altri stessi del mondo dove hai avuto prima. Qual è il tuo sentimento dell'Italia e della nostra città che è sicuramente caratteristica e tipica? Vietti è una città che è una città, ma è spazzata da B.C. e non credo che ho mai avuto in una città di 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 una città e città di una città di una città di un E' stata molto positiva l'impressione che Tommy Smith ha avuto venendo a Rieti perché nella strada dell'aeroporto ha avuto la possibilità di imparare qualcosa sulla storia della nostra città e su tutto quello che è BC, quindi prima di Cristo, cosa che negli Stati Uniti non hanno assolutamente, questo lo sappiamo benissimo, una storia o monumenti, o proprio la storia dell'epoca prima di Cristo, non solo un qualcosa dopo. La loro impressione è stata sicuramente positiva, anche con la moglie di Tommy Smith hanno avuto la possibilità di apprezzare tutta la storia della nostra città, la storia dei Romani e soprattutto anche il cibo che è stato molto apprezzato. Tommy Smith, grazie molto per essere qui e speriamo di vedere ancora qui in la città per questo tipo di evento e anche di divertire ancora il nostro cibo. Grazie molto, è stato un piacere, grazie. Grazie.